leolandia per quanto riguarda la periodo di halloween oggi è il primo novembre del 2022 visto che quello sta portando dei bei piatti in giro stiamo facendo qualche altra il tempo fino adesso mantiene anche se portava brutto però fino adesso dai non non ci possiamo lamentare qualche decorazione di halloween c'è tipo questa casetta dai tutto formato è bella e carina dai fornita ci sono più persone di quando siamo venuti tanto tempo fa ci stiamo muovendo quindi stiamo alzando si vede lì si vede quante macchine ci sono qui c'è la giostra dove prima siamo saliti quello delle bocchie quello dei cavallini lì c'è il disco lì lì è l'entrata proprio lì c'è l'entrata tanto ci stiamo in alzando siamo quasi quasi proprio ci siamo proprio giochi ci siamo visto ci vuoi andare ci siamo all'altro lato quasi siamo a il proprio giochi giochi ci siamo quasi alla punta giro per prima qui ci sono le giostre che stanno per partire con lo zoom cerco di non muovermi però si sta muovendo guarda che incastriamo vediamo qua e si è bello quello dai certo che qui non riesco a vedere però dov'è il mini taglia proprio militaria se non erro è da quella parte proprio dietro quegli alberi dietro quegli alberi ci dovrebbe essere militaria che vediamo se vediamo questa scena quella è vuota però bello l'italia è proprio di là è proprio al di là di quegli alberi quindi veramente difficile proprio la stiamo andando giù quindi si perdeva la visuale dell'altro si perde la visuale quella giostra è una zona diciamo però qua dove siamo è la ruota panoramica dei cavalli siamo le montagne russe che stanno per arrivare qui proprio più che montagne russe proprio però è un trenino portiamo i saluti e con protezione